Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Prima di partire vi ricordo di fare un salto su fcmaglia.com, trovate i link in descrizione. Coupon Lucio10, potete ordinare delle felpe come questa, della Jordan, del PSG, a prezzi assurdi. Oltretutto avete link al canale Telegram per accedere e poter partecipare a sconti e soprattutto estrazioni con maglie omaggio. Ma oggi parliamo di Team of the Season che inizia questo venerdì. Tante le novità riguardanti la Weekend League, i premi e non solo. Prima cosa, la WL avrà inizio non più venerdì mattina ma inizierà venerdì sera. La Weekend League sarà giocabile dalle ore 21 italiane di ogni venerdì e sarà estesa di 48 ore. Quindi anziché terminare il lunedì mattina alle ore 9, terminerà ogni mercoledì alle ore 9. Quindi avete più tempo per giocare la WL, però inizierà leggermente più tardi. Questo per permettere il rilascio del Team of the Season all'interno dei pacchetti, nei Player Picks e quant'altro. Ovviamente vi ho anticipato, vi ho spenderato che è confermato che i Player Picks saranno occupati dai TOTS e non più dai Team of the Week. E, aperta parentesi per quanto riguarda i Team of the Week, è ufficiale che il Team of the Week 26, quello in uscita stasera, e che sarà nei pacchetti per una settimana fino ai primi di maggio, sarà l'ultimo di questa stagione in FIFA 23. Quindi a partire da settimana prossima non avremo più nessuna squadra della settimana in foot. Avremo semplicemente le squadre della stagione ogni settimana due Team. E questa è un'altra cosa importante. Il primo TOTS sarà quello Community, accompagnato da quello Eredivisi. Quindi potremo trovare i TOTS nei Player Picks all'interno appunto della WL come premi, come Community e Eredivisi. Settimana prossima avremo quello Premier League, poi il principale sarà Bundesliga, poi la Liga, Poi il campionato francese, la Serie A per ultimo e infine l'Ultimate TOTS. La Serie A, se non erro, è in foot a partire dal 2 di giugno. Per quanto riguarda i pacchetti 3TOTV che avete tenuto da parte fino ad oggi per sperare di farli trasformare in 3 TOTS, e parlo dei pacchetti, quelli che ottenete con i premi della Weekend League, mi dispiace ma nessun pacchetto 3TOTV si trasformerà in 3 TOTS. Quindi potete aprirlo quando preferite. Un'altra grande enorme novità, interessante direi, riguarda la comparsa dei TOTS all'interno dei premi di Division Rivals. Allora, saranno presenti esclusivamente nei premi stagionali per la stagione 6. Quindi la stagione che inizierà questa settimana, questo giovedì, e terminerà con la fine dei TOTS, potremo avere i TOTS all'interno dei premi stagionali. Attenzione però che dalla Division 5 in giù i TOTS saranno in prestito, a partire dalla Division 4 a salire i TOTS saranno in versioni Player Peaks, Red, esattamente come i premi della Foot Champions Weekend League. Altra cosa importante, se vi trovate in Division Elite, avrete anche la possibilità di ottenere dei Player Peaks Red Tots, anziché i Team of the Week come capita adesso, settimanalmente nei premi di Division Rivals. Quindi novità ancora più interessante. Ma se giocate le Squad Battles, se giocate offline, avrete la possibilità di ottenere anche carte del Team of the Season, ottenendo un rank, quindi un livello argento o superiore. Non si sa ancora nel dettaglio la tipologia di premi che avremo all'interno delle Squad Battles, ma le sapremo di più questa domenica, perché questa domenica qua, il 30 Aprile, è la prima domenica con i premi aggiornati, sia per quanto riguarda la Weekend League, sia per quanto riguarda le Rivals, sia per quanto riguarda le Squad Battles. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo Tots, se queste prime novità ti sembrano più interessanti, se giocherai la WL, le Squad Battles, Rivals, qualsiasi cosa. E ci vediamo qua per il prossimo video, perché ho pronto per voi un video dedicato alla compravendita in vista dei Tots.